ci chiedono qual è il massimo comun divisore di 20 e 40 a volte massimo comun divisore viene abbreviato come mcd in italiano o gcd in inglese massimo comun divisore sembra qualcosa di molto complicato ma in realtà sta solo chiedendo qual è il più grande numero che il divisore sia di 20 che di 40 beh questa domanda mi sembra semplice perché 20 è in realtà un divisore di 40 infatti 40 può essere diviso per 20 senza resto immagino che potrei dire che un fattore sia di 20 che di 40 è proprio 20 perché 20 e 20 per 1 e 40 e 20 per 2 quindi in questa situazione non dobbiamo nemmeno prendere carta e penna possiamo scrivere 20 facciamo qualche altro esercizio qual è il massimo comun divisore di 10 e 7 ma adesso prendiamo carta e penna il più grande divisore comune di 10 e 7 vediamo abbiamo 10 vogliamo trovare il massimo comun divisore di 10 e 7 e ci sono due modi in cui possiamo risolvere questo problema un metodo è elencare tutti i fattori ma attenzione non i fattori primi semplicemente i fattori tutti i fattori di ognuno di questi numeri poi potrai vedere qual è il più grande fattore di entrambi i numeri per esempio nel nostro caso abbiamo il numero 10 10 si può scrivere come 1 per 10 o come 2 per 5 1 2 5 e 10 questi sono tutti i fattori di 10 e sono tutti divisori di 10 infatti il massimo comun divisore a volte chiamato massimo fattore comune è la stessa cosa ora 7 quali sono i tuoi fattori 7 è un numero primo ha solo due fattori 1 e se stesso allora qual è il massimo fattore comune c'è solo un fattore comune qui 1 1 è l'unico fattore comune perciò il massimo fattore comune di 10 e 7 o il loro massimo comun divisore sarà 1 scriviamolo 1 ed è la risposta giusta scriviamolo scriviamolo proviamo un altro esercizio qual è il massimo comun divisore di 21 e 30 vediamo i due numeri in questione sono ora 21 e 30 vogliamo trovare il massimo comun divisore o massimo fattore comune come preferisci di 21 e 30 e abbiamo detto che ci sono più modi per trovarlo puoi usare il metodo che ho usato prima quando ho elencato tutti i fattori lo faccio molto velocemente quali sono tutti i fattori di 21 1 e 21 3 e 7 credo che siano tutti e 30 può essere scritto come 1 per 30 2 per 15 e 3 lo riscrivo perché mi serve un po più di spazio abbiamo detto 1 e 30 2 e 15 3 e 10 e 5 e 6 ecco qui tutti i fattori di 30 e ora quali sono i fattori comuni beh 1 è fattore comune anche 3 è un fattore comune ma qual è il più grande fattore comune cioè il massimo comun divisore sarà 3 possiamo scrivere 3 qui ora vediamo un altro metodo questo altro metodo utilizza la scomposizione in fattori primi ci serve la scomposizione in fattori primi di 21 e quella di 30 vediamo 21 è divisibile per 3 e 3 per 7 e la scomposizione in fattori primi di 30 30 è uguale a 3 per 10 e 10 e 2 per 5 ora quali sono tutti i fattori che posso prendere sia da 21 che da 30 per costruire il numero più grande possibile se guardiamo la scomposizione in fattori primi l'unico fattore in comune è il 3 allora possiamo dire che il più grande fattore comune o il massimo comun divisore di 21 e 30 è 3 se non ci fosse stato niente in comune qui avresti detto che il massimo comun divisore era 1 vediamo un altro esempio interessante così ci esercitiamo diciamo che i nostri numeri sono vediamo un po cosa succede se vogliamo trovare il massimo comun divisore di 105 e 30 105 e 30 adesso il metodo della scomposizione in fattori primi sarà molto utile trovare tutti i fattori di 105 sarebbe lungo ma se utilizziamo la scomposizione in fattori primi sarà facile 105 è divisibile per 5 sicuramente 105 e 5 per 21 e 21 e 3 per 7 allora la scomposizione in fattori primi di 105 è uguale a li scrivo in ordine crescente 3 per 5 per 7 la scomposizione di 30 l'abbiamo trovata prima 30 è uguale a 2 per 3 per 5 ora quali sono tutti i fattori primi che 105 e 30 hanno in comune hanno entrambi un 3 hanno entrambi un 3 e hanno entrambi un 5 quindi il massimo fattore comune o massimo comune divisore sarà il prodotto di 3 e 5 in questo caso il massimo comun divisore di 105 e 30 e 3 per 5 cioè 15 puoi usare entrambi i metodi per trovare il massimo comune divisore puoi prima elencare i divisori o i fattori e poi cercare quali sono in comune e qual è il più grande tra i fattori comuni oppure puoi scomporre i numeri in fattori primi e poi prendere il più grande insieme di fattori primi comuni il loro prodotto sarà il massimo fattore comune il massimo comune divisore è il numero più grande che e divisore di entrambi i numeri